ok allora direi di partire io sono albertine andrea di endian in compagnia di gianni gorno che oggi vi racconterà anche la parte di finanza agevolata per tutto quello che riguarda questo mondo della cyber security permetto che questo un webinar che farà parte di una serie quindi è proprio il primo webinar introduttivo per quanto riguarda la cyber security il target è rivolto molto agli utenti finali quindi a chi utilizzerà e utilizza delle tecnologie di cyber security per mettersi al sicuro ma è utile anche agli operatori del settore per avere magari qualche chiarimento qualche argomentazione e per poter magari aiutare i propri clienti a mettere al sicuro la propria infrastruttura di rete più o meno contiamo almeno un webinar al mese di prenderlo con argomenti veramente molto molto semplici per aiutare proprio a comprendere il perché ci sia questa necessità di mettere al sicuro la propria rete ma i propri dispositivi e i propri e i propri dati io mi presento sono albertini andrea sono l'head of sales di indian indian è una società che poi vi raccontrò meglio dopo italiana che sviluppa soluzioni di cyber security e con me c'è Gianni gorno buongiorno buongiorno a tutti grazie a indian dell'ospitalità che mi ha potuto dare nel webinar di oggi io mi occupo sono il presidente di gfea corpore su una società che si occupa di finanza agevolata e poi dopo dopo che andrea avrà illustrato diciamo le questioni tecniche diciamo io vi darò un panorama dello stato dell'arte degli incentivi attualmente disponibili noi ci occupiamo di finanza agevolata finanza agevolata è quella quell'attività consulenziale che aiuta le imprese ad ottenere l'agevolazione i contributi che sono via via offerti dal dal legislatore sul tema della digitalizzazione attualmente ci sono molti incentivi operativi ma poi vi dirò ce ne aspettiamo anche molti altri che verranno attivati quindi io direi ringrazio di nuovo andrea e indian dell'ospitalità e poi intervenrò poi in seguito per darvi qualche notizia sullo stato dell'arte del agevolato nel settore del digitale grazie ok allora il titolo è la sicurezza informatica ai tempi dello smart working perché questo titolo diciamo quello che è avvenuto di conseguenza a questa pandemia è aumentata si è incrementata proprio la necessità la necessità di poter proteggere le proprie attività nel mondo virtuale nel mondo cyber questo perché il cambiare le nostre abitudini e il portarci magari a gestire in maniera emergenziale la propria modo di lavorare ha comportato a sottovalutare alcuni aspetti aspetti che fino a prima di quando ero obbligato a mettere in atto dei sistemi non prendeva in considerazione ma che oggi sono evidentemente delle necessità che vanno assolutamente soddisfatte allora come vi raccontavo il primo webinar di questa serie parleremo in generale di cyber security e il prossimo webinar invece prenderemo in considerazione un aspetto un po più importante per quanto riguarda l'attuale situazione che è quello delle vpn allora vi racconto un attimino di endian per chi non conosce la nostra azienda noi siamo un cyber security vendor quindi siamo un'azienda che produce dei prodotti dei prodotti che vengono utilizzati per soddisfare delle necessità in questo caso di cyber security siamo un'azienda che ha il vanto di dire che è dal 2003 nata nel 2003 e tutt'oggi siamo un'azienda completamente indipendente e quindi siamo liberi di operare proprio per soddisfare queste necessità che chiunque di noi oggi oggi a il l'azienda tutt'oggi ancora di proprietà di tutti i forniti dei dei fondatori e questo è anche un vanto nostro perché finora siamo riusciti a resistere ai richiami delle sirene di investitori stranieri che volevano entrare insomma nostra società però il l'essere indipendenti proprio ci permette di essere molto più flessibili giusto per farvi capire che tipo di nostra azienda è noi siamo stati il primo vendor cioè la prima azienda che produce prodotti e soluzioni cyber security che ha implementato lo standard open vpn in modo commerciale e questo è avvenuto nel 2005 quando all'epoca ancora nessuno considerava così importante l'utilizzo di un protocollo open vpn siamo stati pionieri e questo ci è stato sicuramente di aiuto perché ad oggi è diventato lo standard de facto per collegare in maniera sicura macchine e umani e tra di loro anche a distanze molto remote noi siamo abbiamo tutte le nostre soluzioni si basano su un sistema operativo quindi c'è questo software su cui girano degli applicativi che vengono integrate nelle nostre soluzioni e che permettono appunto di soddisfare questa necessità qual è la missione di di endian la missione di endian è di offrire una secure digital platform quindi una soluzione appunto una piattaforma di connessione sicura digitale per connettere umani e cose in maniera sicura ed è una necessità che tutti noi abbiamo e proprio oggi è aumentata la consapevolezza noi abbiamo avuto in questa situazione tragica un incremento esponenziale per quanto riguarda la nostra parte operativa perché la domanda delle nostre tecnologie proprio in seguito alla pandemia dove le persone e le cose si sono trovate lontane tra di loro tecnici manutentori che dovevano mantenere e gestire macchinari lontani e non potevano più andarci per via del lockdown collaboratori che dall'ufficio si sono spostati a casa situazioni molto particolari ecco grazie a tecnologie come le nostre siamo stati in grado di soddisfare questo tipo di esigenza che c'era anche prima non è nata con l'attuale situazione ma si è palesata in maniera più evidente proprio successivamente a questa situazione che cosa la secure digital platform di endian è una soluzione composta da hardware e software quindi da diversi prodotti ma come nel nostro caso io sto utilizzando un personal computer che è composto da hardware il computer è un software il sistema operativo su cui gira l'applicativo in questo caso per i webinar e che mi permette con questa composizione di soddisfare l'esigenza di poter gestire questo webinar ecco endian con una integrazione di hardware e software è in grado appunto di soddisfare questa necessità allora partiamo un attimino a parlare di quelle che sono le le necessità allora la società si è evoluta quindi la nostra società la società basata su sugli umani si è evoluta proprio grazie alle connessioni gli esseri umani hanno scambiato informazioni da come si è scoperto il fuoco alla ruota e così via proprio grazie alle connessioni si è partiti prima in una maniera in maniera appunto verbale quindi le connessioni erano principalmente dirette umano su umano successivamente ci si è appoggiati a degli strumenti che rimarrono i papiri libri quel telefono e oggi invece le relazioni sono completamente a distanza grazie appunto a sistemi altamente tecnologici come per esempio le video call diventate popolarissime in questo periodo con un'esplosione nell'utilizzo delle piattaforme dei più importanti produttori di sistemi di videoconferenza ecco la le connessioni sono rimaste quindi la possibilità di scambiare informazioni sono sicuramente rimaste le stesse quello che è cambiato sono i metodi di comunicazione quello che è cambiato oltretutto è cosa è integrato nella connessione si è partiti prima dalla voce partendo delle connessioni digitali la voce le prime connessioni anzi analogiche erano proprio la telefonia ci viene in mente quando il telefono è diventato un dispositivo di massa quindi io ero ancora bambino che c'erano le cabine ancora con i gettoni non con le monete con le tessere ancora con i gettoni che venivano ancora accettati nei negozi si è partiti dalle connessioni tramite voce successivamente appunto la trasmissione delle informazioni diventata molto popolare tramite video e oggi è tutto in digitale con dei dati quindi quello che ha un contenuto viene digitalizzato quindi trasformato convertito reso in in un formato trasferibile insomma su dei media diversi e successivamente viene spostato e come sono cambiate anche le connessioni non sono più connessioni fatte solo tra umani ma sono cambiate siamo passati da avere una connessione tra umano umano quindi io scambiavo delle informazioni con un mio collega a voce io scambiavo delle informazioni con un mio collega via mail telefonate quindi era comunque tra umano umano perché solo gli umani erano in grado di gestire poi le informazioni non trasferire ma gestire ci si è evoluti ci sono nate le connessioni tra umani e macchine quindi noi ci interfacciamo con dei dispositivi intelligenti quindi noi diamo delle informazioni a dei dispositivi e questi dispositivi le elaborano io programmo il mio come si dice termostato per la caldaia in maniera che parta quando vada sotto una certa temperatura questo lo faccio dalla mia app del telefonino però ci siamo evoluti ulteriormente le macchine ora parlano da sole noi non lo vediamo viviamo una vita l'essere umano analogico ma si interfaccia con dispositivi digitali e spesso questi dispositivi digitali con cui ci interfacciamo lavorano tra di loro il mio telefonino ha appena ricevuto un aggiornamento del sistema operativo e l'ha ricevuto ed è gli arrivata una notifica guarda che c'è un aggiornamento disponibile inviato da un altro server una macchina il mio telefonino si è interfacciata con un'altra macchina il server di chi ha sviluppato quel sistema operativo e hanno parlato tra di loro una videocamera di sorveglianza manda gli input al registratore per dirgli attenzione ho rilevato un movimento lì e il videoregistratore attiva dei contatti che vanno ad accendere una sirena una macchina che parla con una macchina un telefono nuovo messo in un ufficio su una scrivania viene auto rilevato e configurato da un centralino ma poi potremo evolverci a parlare di robotica intelligenza artificiale machine learning la guida autonoma delle automobili di cui tanto tanto si parla insomma si è evoluta proprio la tipologia delle connessioni quello che è rimasto è che è necessario sicuramente avere delle connessioni senza connessioni umane analogiche o digitale la nostra e civiltà verrebbe a mancare perché non c'è più uno uno scambio ritorneremo insomma ad essere degli eremiti allora il problema qual è che le connessioni proprio il trasferire passare qualcosa di mano in mano è sempre a rischio di intercettazione come può essere a rischio di intercettazione quando io affido a un corriere espresso un pacchetto che contiene qualcosa per me di prezioso può anche non arrivare a il destinatario e perché magari qualcuno nel viaggio me lo sottrae e mi arrecca un danno questo è un problema però se immaginiamo anche nel nostro piccolo qualcuno che entra in una chat su cui appunto stiamo dicendo qualcosa di personale riservato che verrà usato contro di noi o pensiamo appunto che sto inviando i dettagli dell'offerta a un collega e se finisce da un competitor da un concorrente potrebbe sottrarmi la vendita o ancora peggio invio delle informazioni molto riservate per accedere a un dispositivo e qualcuno me le sottrae prende controllo di quel dispositivo ecco è evidente come le connessioni sono importanti però anche nel nostro piccolo io ad esempio posso inviare le foto delle mie bambine a mia mamma perché magari è in vacanza e mi ha chiesto una foto ecco mi scocerebbe alquanto che qualcuno senza la mia autorizzazione anche se sono foto delle mie bellissime bambine possa accedere a quelle foto perché non ha la mia autorizzazione quindi il rischio di avere delle connessioni c'è qualsiasi sia il tipo di connessione come se faccio un pettegolezzo a un amico ecco e rischio che qualcuno lo so quindi bisogna garantire le connessioni le connessioni esistono perché io mi fido che quella connessione funziona il problema che mi fido non sempre sicura che cosa la cyber security allora qui entra in campo la digitalizzazione ormai è tutto digitalizzato la cyber security è un insieme di tecnologie che serve a proteggere dispositivi e informazioni dall'accesso dalla sottrazione non autorizzato ecco grazie alla cyber security io posso fare in modo che queste connessioni digitali tra umani umani ad esempio whatsapp una mail tra umani e macchine ad esempio io accedo a un server di storage dove ci sono un server nas dove ci sono le foto delle mie vacanze o tra macchine macchine il mio termostato che si auto aggiorna dal software del produttore ecco grazie alla cyber security queste connessioni si rendono più sicura la sicurezza al cento per cento non esiste mai questo mito da sfatare non esiste la sicurezza al cento per cento perché finché c'è la possibilità che un uomo un essere umano possa cedere è sempre lì perché chi ha compie degli illeciti è comunque sempre gestito da un essere umano partiamo da perché importante la cyber security allora innanzitutto per chiunque svolga un'attività professionale deve garantire che i dati all'interno della propria infrastruttura siano al sicuro bisogna fare quanto più possibile per evitare che un estraneo o comunque una persona non autorizzata possa accedere a dei dati in ambito aziendale qualsiasi azienda qualsiasi attività da un negozio con i dati dei clienti magari un fioraio che si mette da parte sul computer e le consegne per i clienti da un commercialista che tiene la contabilità ma anche da un'azienda farmaceutica che produce dei medicinali importantissimi ecco in ogni caso qualsiasi sia l'attività è fondamentale garantire che siano al sicuro e questo è previsto dal regolamento appunto il GDPR che è fondamentale quindi qualsiasi azienda che non ha un sistema di sicurezza il più semplice è inserire un dispositivo di sicurezza perimetrale generalmente un utm chiamato anche volgarmente firewall anche se il firewall è una cosa più piccola di un utm fa un po meno cose ecco è fondamentale quindi qualsiasi azienda si deve mettere ed è fondamentale cioè al di fuori di questo si è già fuori legge quindi perché devo pensare alla cyber security se ho anche se io ho una partita iva proprio perché sono obbligato per legge ho dei dati sensibili seconda cosa è la possibilità che io abbia qualcosa che possa attirare l'attenzione di malintenzionato è altissima ogni dispositivo oramai e ogni applicazione necessita di essere collegata alla rete internet oramai anche gli elettrodomestici quelli definiti bianchi lavatrici frigoriferi e forni ormai si nuovi si stanno collegando alla rete però se pensiamo a tutti noi dalle automobili che hanno necessità di aggiornamenti delle mappe dal mio telefonino il mio computer il mio server di storage la stampante il termostato la console per i videogiochi il televisore e qualsiasi la tele videocamera di sorveglianza il sistema d'allarme non esiste più praticamente nulla che non sia collegato in rete e questo è un problema perché in qualsiasi di questi dispositivi specialmente quelli prodotti in massa quindi che sono uguali in tutto il mondo se possono essere gestiti da malintenzionati per fare altre cose è uguale anche per i dati tutti noi utilizziamo gli smartphone tablet si basano su app recentemente sono nati molti problemi riguardo proprio alle app che rubavano i dati forse qualcuno di voi si ricorda di quella famosa app che ci invecchiava e che ci rindeva particolarmente simpatici sui social media mostrandoci come saremo stati quando avremmo avuto 70 80 anni ecco e quell'app lì andava a recuperare delle informazioni che non si sapeva a chi andavano e come venissero utilizzate quindi c'era stare molto attenti perché la mia faccia presa da una app con delle informazioni ben dettagliata potrebbe essere utilizzata per delle attività diciamo illecite ma anche semplicemente la app dell'home banking anche semplicemente la app che uso per consultare l'estratto conto della carta di credito e così via c'è da stare veramente molto molto attenti perché è un valore veramente importante giusto per darvi un riferimento in numero le previsioni indicano risk iq ho preso questo questo valore che uno studio oltretutto molto costoso che ha valutato quanto sarà il costo non il valore il costo per le aziende relativo ai danni dovuti al cyber crimine dal 2021 quindi a gennaio dell'anno prossimo si prevedono 11 milioni di dollari al minuto questo è il costo che sosterranno le aziende per relativamente ai danni dovuti ai cyber criminali e ovviamente tanto più si è meno protetti tanta più c'è sensi poca sensibilità nella gestione tanto più i cyber criminali troveranno modo di ottenere informazioni magari anche poco importanti poco dettagliate potrebbero essere anche informazioni personali come una mail un collaboratore che manda la mail al concorrente che gli ha promesso che si girava i dati di di un affare in corso di regalava il nuovo telefonino potrebbe essere una signora che viene fotografata in compagnia di un uomo che non è suo marito potrebbero essere anche gli estratti conti in cui si vedono degli ingressi diciamo anomali ecco tutte queste sono informazioni viviamo nel mondo del cyber ricatto non dimentichiamoci che la realtà virtuale è una rappresentazione di quella reale i criminali che troviamo nella realtà reale ce ne sono altre tanti nella nel mondo virtuale quindi bisogna stare molto attenti non viviamo un po ad esempio c'entra poco però per farvi capire un po la differenza c'è ancora poca concezione di cos'è il virtuale oggi parlare male di una persona sui social network ripostare un'immagine in cui solo perché io c'ero a morte con i delinquenti in cui c'è la foto di una persona che è indicata come un delinquente cui mi auguro che venga messo in galera ecco se io la condivido e quella persona non è realmente colpevole io sono penalmente quindi c'è da stare veramente molto molto attenti cioè il mondo virtuale non è scollegato da quello reale quindi proteggiamoci a casa mia chiudo con la doppia mandata la sera o l'antifurto la macchina mia all'antifurto ed è assicurata contro il furto io devo fare altrettanto per sistemare la la mia la mia rete allora parliamo dello smart working proprio il fatto che siamo stati costretti praticamente tutti a modificare le nostre abitudini e quindi a spostare il luogo di lavoro da il luogo di lavoro a un altro posto che generalmente era casa c'è sposti a rischi infrastruttura di rete in azienda era protetta c'era un it manager o comunque c'era un consulente esterno mi mi dava una certa sicurezza perché il computer era collegato via cavo il wifi era solo per la rete ma era fatta bene la rete aziendale ma non appena mi sono spostato a casa ecco lì che nascono i problemi c'è stato un incremento mostruoso degli attacchi di phishing phishing è quegli attacchi da pesca dove appunto si getta un amo e poi nel mucchio qualcuno attacca generalmente sono finti richieste di bonifico finte richieste di informazione dove poi alla fine lo scopo è quello di ottenere o dati o direttamente soldi dal malcapitato senza che se ne accorga ecco c'è stato un incremento mostruoso di questi dati durante lo smart working perché non eravamo preparati a gestire questo allora come ci si tutela allora faremo poi un altro webinar a riguardo però con le vpn le vpn che cosa sono sono dei sistemi di connessione quindi è una connessione tra un umano con un dispositivo verso un altro dispositivo un'altra rete il cui contenuto è criptato cosa vuol dire che se uno riesce anche ad entrare in quella connessione lì quindi riesco ad entrare perché ti ho inviato una mail con un allegato strano insomma qualche maniera oppure entro nella rete perché ho scoperto la password wifi ecco tutto il traffico di quella connessione viene criptato se io non ho la chiave e la chiave non si ottiene facilmente o in tempi ragionevoli da rendere appunto efficace l'attacco quello che viaggia in quella connessione non è intercettabile da terzi e questo è fondamentale se si lavora al di fuori dall'ufficio non è pensabile non essere collegati tramite una vpn pensate che addirittura le vpn sono molto ma molto utilizzate in paesi dove la libertà d'opinione e magari la la libertà di potersi collegare limita l'uso di internet allora si utilizzano delle vpn che sparano gli utenti su dei paesi dove realtà non ci sono queste limitazioni quindi io da il mio paese dove non posso vedere che ne so linkedin questo è capitato mio ex collega non poteva collegarsi a linkedin per collegarsi a linkedin apriva una vpn che lo mandava negli stati uniti e poi da lì si navigava in internet quindi il governo del suo paese non vedeva nulla perché i dati erano criptati lui poteva tranquillamente fare quello che voleva la vpn fondamentale perché grazie alla vpn gli posso fare in modo che il mio collaboratore il mio collega possa accedere alla rete aziendale tutte le risorse aziendali in maniera sicura altro accorgimento fondamentale proprio nell'era dello smart working è fornire al collaboratore dispositivi idonei e se è possibile fare in modo che abbia un dispositivo aziendale perché nel mio computer personale io ho le mie foto e mi sento un po più leggero io nel mio computer personale magari gioco coi videogiochi nel mio computer personale magari vado e mi guardo i video però magari nel mio computer personale posso andare sui siti pirata di streaming perché non voglio pagare il canone a un a qualcuno che mi offre appunto i film in visione quindi voglio a gratis magari sul mio in indirizzo email personale quindi sul mio computer mi arrivano delle mail su cui non ho neanche l'antivirus insomma diventa complicato l'ideale è sempre quello di fare in modo che se il collaboratore esce dall'infrastruttura di rete aziendale con tutte le dovute protezioni quando lavora da fuori abbia comunque un dispositivo che sia gestito dall'it manager o da un consulente strano dell'azienda in maniera che sia sicuro perché effettivamente un un vero e vero grosso problema e l'altra cosa è ovviamente io posso avere la vpn ma generalmente se la vpn o un sistema di sicurezza perimetrale l'utm unify trade management o molti lo chiamano firewall ma il firewall è una parte dell'utm permette rimettere a sicuro la mia rete quindi quando si collega un collaboratore da casa con una vpn entra nella mia rete aziendale quando entra insomma ci sono le policy definite poi da dalla rete quindi è sicuro ma la cosa più importante è formare il personale ci vuole un po di buon senso nessuno regala soldi non esistono concessionari che regalano ai primi cinque che scrivono il colore una golf nuova cose che vedo tutti i giorni sui social non esistono aziende che ti richiedono dettagli per farti un bonifico che tu non conosca cioè quando qualcosa va al di fuori della normalità ha molto senso fare una valutazione se effettivamente può essere vero male quindi bisogna formare il personale quindi fare in modo che il personale e questo come avviene mi appoggio a dei partner certificati quindi dei system integrator che abbiano competenze cyber security noi collaboriamo con tantissime aziende in italia i nostri partner quando fare i nostri corsi insomma vengono formati su tante cose e sono in grado appunto di formare gli utenti finale cioè coloro che non hanno intenzione di installarsi in sistema di sicurezza perché non hanno le competenze chiamano qualcuno che lo fa ecco noi formiamo quelli che chiamano e che utilizzeranno le nostre tecnologie per garantire al sicuro e dare della formazione al personale che è fondamentale io posso avere il miglior sistema di sicurezza al mondo ma se il mio collaboratore prende e fornisce prende e fornisce le password e non utente il certificato tramite email a un suo amico della vpn basta poco se io do il mio telefonino a qualcuno un problema ho rotto lo schermo del telefonino tempo fa prima dell'aggiornamento che vi citavo l'ho portato a far riparare il ragazzo un giovane ragazzo del negozio dove facevano riparazioni mi ha chiesto la passo ma detto non esiste proprio perché se io ti do la passo nel mio telefonino tu puoi tranquillamente fare tutto quello che vuoi quindi glielo ho risettato glielo ho dato per una backup recuperato quindi è fondamentale bisogna essere ragionevoli poi il rischio c'è sempre perché viviamo in un mondo molto complesso siamo distratti può capitare l'errore siamo esseri umani però insomma cercando di avere connessioni sicure specialmente a di fuori dell'ufficio un sistema centralizzato un utm di protezione e poi formare il personale il rischio di incappare in un attacco o comunque un'estorsione è relativamente è relativamente basso ok questo è quello che riguarda come vi dicevo la prossima parte che faremo il prossimo webinar sarà dedicato nel dettaglio proprio alle vpn quando si usano come si usano perché si usano anche se l'ho già accennato oggi e che è fondamentale proprio perché finita diciamo questa speriamo a breve periodo emergenziale dovuto dall'attuale pandemia tutto il mondo o amici colleghi conoscenti si aspetteranno proprio che qualcuno rimarrà a lavorare da casa perché qualcuno si è trovato anche molto bene io personalmente no preferisco venire in ufficio a stare con i miei colleghi però effettivamente ci si aspetta quindi bisogna prepararsi fare in modo che se si vuole soddisfare questa esigenza dei nostri collaboratori che diventano molto più produttivi molti sono molto più produttivi da casa bisogna fare in modo che la cosa sia definita stabile e funzionante ecco qua io ripasso di nuovo la parola a gianni che vi farà adesso una presentazione un po più dettagliata di quello che fa la sua azienda vi invierò alla fine del webinar e alla fine dopo qualche giorno dopo la fine del webinar quindi settimana prossima una mail di ringraziamento con un po di documentazione allegata e i contatti sia miei che di gianni così se dovete poi approfondire alcuni argomenti insomma ci potete tranquillamente contattare se avete qualche domanda alla fine anche della parte di gianni poi vi possiamo vi possiamo rispondere grazie e ripasso la parola gianni buongiorno a tutti grazie ad andrea che per la presentazione io vi volevo vi vorrei parlare un attimo diciamo degli incentivi che attualmente sono operativi sul piano 4.0 nel senso che ormai in questi anni diciamo eh vi è un'attenzione da parte del diciamo del del governo e in particolare del ministero dello sviluppo economico sull'incentivazione diciamo sulla trasformazione digitale delle imprese chiaramente oggi il tema era la cyber security quindi un tema molto diciamo specificamente la mia presentazione invece è un po più ampia sugli incentivi in senso a in senso lato tra eh diciamo i vari interventi comunque viene agevolata eh diciamo anche queste anche queste trasformazioni anche questi investimenti che le aziende realizzano per eh diciamo mettersi in sicurezza e al fine proprio di eh favorire diciamo quello che è definita la trasformazione 4.0 eh il piano industria 4.0 parte nel 2017 eh subisce poi via via diciamo delle trasformazioni in ambito diciamo misura di incentivo e di eh e di agevolazione però diciamo è da ormai da quattro anni che siamo impegnati eh nel nel affiancare le aziende per consentire loro di ottenere queste tipologie di agevolazioni e di contributi sostanzialmente da dal primo gennaio 2020 eh il governo attuale ha trasformato il piano in industria 4.0 che poi era diventato impresa 4.0 proprio questo per testimoniare che è un piano che nasce con un linguaggio rivolto all'industria però è un è un piano invece che nella sua nelle sue caratteristiche agevolative proprio perché è rivolto a tutti i settori è rivolto a tutte le tipologie di l'impresa quindi gli incentivi che eh adesso vi elencherò non sono solo pensati per il mondo industriale che sicuramente è il mondo che ne ha beneficiato di più ma poi scopriamo che anche altri settori il commercio il mondo dei servizi possono usufruire di queste tipologie di agevolazioni perché eh questo proprio per la sua natura chiaramente il piano è un piano intersettoriale è rivolto a tutti i settori e cosa altra questione molto importante è rivolto a tutte le imprese di qualsiasi dimensione molto spesso noi nella finanza agevolata ci troviamo di fronte ad agevolazioni che sono rivolte alle piccole e medie imprese invece il piano transizione 4.0 è rivolto a tutte le imprese di qualsiasi dimensione che cose che agevola eh poi arriverà poi come diceva prima Andrea e una mail di ringraziamenti arriverà anche una piccola presentazione eh che però voglio riassumere eh velocemente nel senso che il piano agevola eh diciamo tre filoni di eh di investimenti anzi quattro diciamo però tralasciamo quello che è la ricerca e sviluppo che è eh diciamo sicuramente rivolto in particolare aziende strutturate eh restano tre tre filoni che sono rivolte un po' a tutte le aziende il primo filone di agevolazione è diciamo quello di sostegno agli investimenti in senso produttivo cioè i macchinari produttivi c'è un secondo filone invece al sostegno degli investimenti in materiali quindi l'acquisto di software e e piattaforme e anche investimenti quelli che diciamo Andrea eh prima illustrati e poi il terzo filone agevolativo è quello della formazione a 4.0 il senso di questa cosa è la trasformazione digitale dell'impresa cioè io ti finanzio una macchina produttiva ti finanzio il software per la cosiddetta interconnessione e e poi ti eh agevolo anche diciamo eh la formazione partiamo un attimo dalle 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 entità di agevolazione che eh sono attualmente previste diciamo oggi realizzare un investimento in un macchinario che rientra nelle caratteristiche di piano industria 4.0 poi chiaramente eh se qualcuno delle domande ma poi anche in colloqui diciamo one to one c'è la possibilità di approfondire questi aspetti l'incentivo oggi da un investimento da zero due milioni e mezzo è un credito di imposta del 40 per cento la novità eh in particolare del piano transizione 4.0 è quella di aver trasformato l'incentivo sicuramente forse avete sentito parlare perché ormai un po' di anni che parliamo è anche ricorrente in trasmissioni radiofoniche in pubblicità era l'incentivo dell'iperamortamento l'iperamortamento era un incentivo che maggiorava fiscalmente i costi e consentiva semplifico e banalizzo per far comprendere consentiva alle aziende che avevano diciamo capacità di produrre utile e quindi erano soggette a Ires che è l'imposta sui rettiti di risparmiare questo imposto con il piano transizione 4.0 emanato quest'anno il governo ha si posto un obiettivo cioè di allargare la platea dei beneficiari il piano come dicevo parte nel 2017 ha successo tante aziende hanno usufruito dei benefici dell'iperamortamento però probabilmente non un numero ritenuto sufficiente dal governo allora la trasformazione in credito di imposta e tutte le misure che vedremo sono con questa tipologia di misura fiscale consente di allargare la platea dei beneficiari perché non solo le aziende che hanno una capienza Ires sono interessate a questo ma il credito di imposta chiaramente è un beneficio che io sconto diciamo prima diciamo con qualsiasi compenso con qualsiasi versamento in F24 quindi con i contributi dipendenti con i versamenti di imposte quindi all'ilà del risultato dell'azienda il credito di imposta è comunque utilizzabile ecco perché diciamo è un incentivo che si rivolge a una platea più ampia rispetto all'iperamortamento quindi veniamo all'incentivo diciamo sull'investimento in beni materiali e oggi l'incentivo è pari a un 40 per cento da per un investimento da 0 2 milioni e mezzo aggiunto questo vi è anche l'incentivo sull'acquisto di software diciamo per un'azienda che acquista un software 4.0 quindi fa anche investimenti in cyber security vi è un incentivo del 15 per cento di credito di imposta quindi quello che io investo posso recuperarlo posso recuperare il 15 per cento con un credito di imposta se l'investimento sui beni materiali lo recupero in cinque anni quello che non dicevo prima del 40 invece lo recupero in tre anni accanto a questo resta diciamo incentivo invece molto interessante e anche su tematiche di cyber security diciamo che riguarda la formazione 4.0 la formazione 4.0 pronto mi sa che Gianni Gianni mi sa che abbiamo perso Gianni vediamo un attimino attendiamo un pochino speriamo che ritorni online vediamo che ci sono intanto vabbè ringrazio gli amici che mi hanno salutato nella nella chat grazie mille è un piacere di sentirvi e vediamo un attimino se ci sono delle mi sentite e adesso ci sentiamo sei sei ritornato tra di noi eccoci non so dove non so fino a dove avete sentito comunque stavo parlando del credito di formazione ecco credito di formazione che è molto importante molto attinente secondo me anche al tema svolto oggi da Andrea nel piano nel piano transizione già nel piano industria 4.0 ma nel piano in transizione è stato confermato vi è la possibilità di egevolare per le aziende la formazione dei propri dipendenti su queste tematiche quindi anche sulla tematica della cyber security diciamo è possibile usufruire c'è chiaramente per l'impegno dei c'è chiaramente io faccio delle tematiche di formazione su queste su questi argomenti io posso usufruire di un credito a seconda della dimensione qui di impresa però per le piccole imprese è un credito del 50% cioè io recupero il credito d'imposto del 50% per le ore di formazione che il mio personale dedica a queste tematiche quindi un incentivo molto interessante a cui si aggiungono non solo le ore ma anche costi anche alcuni costi esterni di specialisti esterni che è quindi finalizzato a far evolvere il livello di conoscenza del mio personale in azienda su queste tematiche su queste tematiche della sicurezza sulle tematiche chiaramente dell'interconnessione delle macchine sulle tematiche chiaramente di istruzione all'utilizzo dei software 4.0 tutto questo può riguardare questo beneficio interessante chiudo per non rubarvi altro tempo e poi lascio di nuovo la parola ad Andrea poi sono disponibile se qualcuno ha delle domande col dire una cosa questi sono gli incentivi attualmente vigenti mi sarà capitato di sentire che è in atto una discussione molto importante su risorse comunitarie che stanno arrivando in Italia che sono questi recovery bond sui giornali ogni giorno sentiamo un dibattito che nel nostro paese è aperto per individuare le priorità quello che diciamo nella miriade di progetti che probabilmente sono sui tavoli ministeriali quello che però sembra chiaro che una delle priorità fondamentali che il governo vuole con cui vuole impegnare queste risorse comunitarie che sono risorse molto significative è la digitalizzazione delle imprese quindi noi ci aspettiamo noi operatori della finanza agevolata ci aspettiamo nelle prossime settimane cioè già dalla bossa di legge di stabilità che dovrebbe arrivare diciamo settimana prossima degli miglioramenti di quanto ho illustrato poco fa quanto vi ho illustrato probabilmente sicuramente subirà una conferma triennale cioè l'obiettivo già apparso in giornali è quello di dargli una durata triennale quindi una stabilità dei benefici in modo da consentire anche una programmazione delle scelte delle aziende non escludiamo perché così si legge che vi sia anche un miglioramento e un ulteriore diciamo incremento di queste importanti agevolazioni fiscali proprio perché queste agevolazioni hanno stimolato gli investimenti nel 17 e nel 18 e quindi hanno dato buona prova di sé e quindi è intenzione secondo noi secondo quanto leggiamo del governo riconfermarli se non potenziali quindi diciamo che quello che vi ho illustrato è lo stato dell'arte sul futuro non abbiamo ancora chiaramente informazioni precise ma è il nostro lavoro chiaramente osservare con attenzione l'evoluzione degli incentivi e chiaramente informare i nostri clienti e assisterli nella possibilità di ottenerli quindi diciamo il mio intervento è per forza di cose prospettato verso il futuro perché ci aspettiamo su questi temi delle importanti novità che sicuramente sulle quali speriamo di assistere i nostri clienti quindi io ringrazio Andrea nuovamente della possibilità e resto a disposizione se ci sono eventuali richieste di chiarimento perfetto allora grazie grazie Gianni di questo incontro sicuramente ce ne saranno altri che andranno magari a colpire argomenti molto più verticali e dettagliati anzi nel caso in cui dato che insomma avrete poi i nostri riferimenti se volete approfondire qualche argomento siamo sempre disponibili e niente allora come vi anticipavo nei prossimi giorni vi arriveranno appunto i nostri riferimenti un po' di documentazione se volete approfondire bene e inoltre tra qualche settimana insomma con ottobre organizzeremo un secondo webinar un po' più dedicato alle WPM successivamente uno dedicato invece ai vantaggi fiscali legati proprio all'applicazione della cyber security nell'industria, l'IoT che è uno dei mercati per Indian principali anzi è il mercato principale per Indian e quindi sicuramente sarà di interesse allora vi ringrazio grazie ancora del vostro tempo della vostra disponibilità della vostra partecipazione auguro a tutti insomma che questa attuale situazione si risolva per tutti a breve nel migliore dei modi e in caso contrario insomma auguro a tutti di essere resilienti e superare tutto e tornare più forti di prima ok grazie grazie ancora della partecipazione grazie a tutti buona giornata e buona serata grazie grazie ciao Gianni ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti